Inclusione e autonomia, due parole chiave che hanno guidato il convegno sull'integrazione abitativa di persone con fragilità, promosso dalla Fondazione La Ricerca, nella quale le esperienze di Casa Sofia, Casa Lucia e Casa Laura sono state il filo conduttore. Per noi è stata un'occasione enorme perché avendo una comunità di doppia di angi psichiatrica, ha voluto dire avviare esperienze per permettere a persone ritenute non solo fragili ma, mi spiace la battuta, di serie B, portarli in un contesto urbano e sociale dove non solo possono integrarsi ma avviare un percorso per partecipare attivamente non solo alla vita sociale ma anche alla vita lavorativa e affettiva. Finalità che vanno ben oltre la semplice disponibilità di un alloggio. Questo per noi è molto importante perché porta persone che generalmente, io dico sempre, sono figli di un dio minore, a un'aspirazione invece ad una vita civile a partire dall'abitare per poter invece essere persone, cittadini di serie A. Noi abbiamo attualmente quattro appartamenti, tre in città e uno a Ponte dell'Oglio, dove in città abbiamo, perché i numeri non possono essere tanto alti, però in un appartamento in via Roma sei persone, altre sei persone in via Taverna e tre persone a Ponte dell'Oglio. Questo coordinato con la psichiatria di Piacenza, che ha una struttura tra l'altro di nostra proprietà ma in affitto in via Zoni. E questo è l'avvio di esperienze nuove.